lo facciamo partire oggi questo motorino benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi cercheremo di fare partire questo garelli noi fermo da 25 anni quindi mettiamoci subito all'opera per cercare di farlo partire anche perché dopo bisogna venderlo andiamo subito a vedere se c'è corrente e dopo smontiamo carburatore e serbatoio per pulirli